focus gr3 gli infortuni sul lavoro sono in aumento un dato che fa riflettere mentre ricorre oggi la settantunesima edizione della giornata anmil per le vittime manifestazioni in tutta italia la principale si svolge alla spezia e comincerà alle 10 l'inviata amalia carosi non scende la curva degli incidenti sul lavoro anzi con la ripresa economica risale il numero degli infortuni quest'anno da gennaio ad agosto sono stati 350 mila l'8,5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ma diminuiscono i morti il 6,2 per cento in meno giovanni luciano presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'inail alla vigilia della settantunesima edizione della giornata anmil per le vittime degli incidenti sul lavoro fa un bilancio negli ultimi 15 anni restiamo sempre intorno ai 1150 morti all'anno con una media di 3 al giorno e poi conti in tasca all'ente ma che vanno letti come quello che resta ai parenti delle vittime di morte bianca le rendite erogate dall'inail sono circa 103 mila anche qui un numero simile a quello registrato negli ultimi cinque anni le rendite globali per i superstiti per chi ha un'inabilità permanente ammontavano nel 2020 a 4 miliardi e 422 milioni di euro valore praticamente costante negli ultimi anni anche qui a ricordare ci che il numero di morti sul lavoro non riesce a invertire la rotta un numero dietro al quale ci sono volti e storie aveva solo 18 anni aleandro lorenzato e morto a desenzano vicino a brescia nel giugno 2019 all'interno di un rimessaggio per le barche non era assicurato i familiari attendono ancora giustizia al microfono di arianna di giorgio la madre michela doveva essere un lavoro estivo che gli sti guadagnava i suoi soldini e inizialmente l'azienda ha detto che lui non lavorava lì perché loro non l'avevano ancora messo in regola comunque è stato ucciso durante una manovra di movimento giù da parto da moto d'acqua ha avuto giustizia? dopo due anni sono solo state chiuse le indagini adesso aspetto la data della schienza quando ti muore un figlio è un dolore immenso e cerchi di elaborare il lutto ma il prolungare delle indagini, dei processi portano avanti il dolore all'infinito cosa ostacola la sicurezza sul lavoro? le aziende che cercano di farle furte le sicurezioni sono lunghe nel pagamento quindi anche i tempi di risarcimento sono lunghi non c'è certezza di pena e come difendersi? chi va a lavorare non deve soltanto dire io faccio di tutto per avere un posto di lavoro e subisco anche l'ingiustizia di un attore di lavoro che non mette in sicurezza l'azienda pur di lavorare si deve anche tutelare il dipendente deve chiedere anche di avere le norme sul lavoro la gente adesso pur di andare a lavorare accetta tutto